Salgono a 1.390 le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Rimangono 5 i pazienti in cura e terapia intensiva, 22 quelli ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi. Oggi sono stati rilevati 59 nuovi contagi, di cui 24 in provincia di Udine, 15 nell'Isontino, 2 a Trieste e 17 a Pordenone, ai quali si aggiungono 27 persone da fuori regione. I totalmente guariti salgono a 3.826, i clinicamente guariti sono 18, le persone in isolamento 1.345. Nel dettaglio dei casi è stata riscontrata la positività al covid di un neonato al pronto soccorso del burlo garofalo di Trieste, mentre sul fronte delle scuole 25 delle 59 infezioni odierne afferiscono a minori. Sono da registrare a Pordenone con un caso al liceo artistico e un altro al liceo scientifico Grigoletti, a Gorizia 9 al liceo Dante Alighieri, con una classe già in quarantina e uno all'Istituto Tecnico per Geometri. A Udine, dopo il contagio di un piccolo emerso l'8 ottobre scorso, è spuntato un nuovo caso di positività alla scuola dell'infanzia Marco Volpe, con successive procedure di isolamento e sanificazione dei locali. Per quel che riguarda gli altri focolai, ce n'è uno di tipo familiare, composto da 13 persone nel comune di Valvasone Arzene, mentre nell'ambito delle attività produttive si registrano un caso di un addetta alle casse di un supermercato nell'area dell'ex provincia di Pordenone, un caso all'Apotocco di Manzano, con l'azienda che ha deciso di fare eseguire i tamponi a tutti i dipendenti e collaboratori, che sono un'ottantina, infine altri due casi in una ditta di consegne di Porcia. Nel settore sanitario si è riscontrata la positività di un operatore di una residenza per anziani ad Aiello del Friuli. A Trieste sono state sospese per 48 ore, in attesa della sanificazione di tutte le aule, le udienze penali nel Tribunale, dopo che nei giorni scorsi sono emersi alcune positività al Covid e tra il personale. Momenti di tensione invece stamattina all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine, quando alcuni ospiti hanno tentato, in modo non violento, di uscire dalla struttura che pochi giorni fa è stata dichiarata zona rossa. Sul posto le forze dell'ordine e i mediatori culturali per riportare la calma alla situazione poi rientrata.